Una squadra di vigili del fuoco, come si vede da questo gazebo ancora sul posto, ha sorvegliato per tutta la scorsa notte i resti dell'ex scalo ferroviario di via Rismondo, andati letteralmente in fumo. A poco più di 24 ore, dal maxirogo che ha svegliato un intero quartiere tra sabato e domenica, restano lo scheletro bruciato del capannone dismesso di 1400 metri quadrati e la paura dei residenti. Non esclusa infatti la presenza di amianto all'interno di un'area che da anni attende di essere bonificata. Il presidio dei vigili del fuoco nella scorsa notte ha avuto una doppice motivazione, innanzitutto evitare che senza tetto potessero avvicinarsi all'area. E potrebbe essere stata proprio la presenza dei clochar a scatenare il furioso incendio. Presumibilmente un fuoco acceso per scaldarsi dal freddo della notte, definito fuori controllo. Questa è una delle ipotesi al vaglio per costruire l'accaduto, ma non si esclude nemmeno l'atto doloso o il cortocircuito. In secondo luogo i vigili del fuoco sono stati controllato l'area al fine di fermare possibili nuovi focolai. In tale ottica la pioggia battente delle ultime ore ha fornito un valido aiuto. L'area di proprietà delle ferrovie resta sotto sequestro ed è stata aperta un'inchiesta per far luce sull'accaduto.